VANGELO DI GIOVANNI CAPITOLO DICIANNOVESSI Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela possero sul capo, e gli misero addosso un manto di porpora, e si accostavano a lui e dicevano, salve re dei giudei, e gli davan degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro, ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse loro, ecco l'uomo. Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono, crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro, prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. I giudei gli risposero, noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliuolo di Dio. Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio, disse a Gesù, dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse, non mi parli, non sai che io ho podestà di liberarti e podestà di crocifiggerti? Gesù gli rispose, tu non avresti podestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui non sei amico di Cesare, chiunque si farei si oppone a Cesare. Pilato dunque udite queste cose, menò fuori Gesù e si assise al tribunale nel luogo detto lastrico e in ebraico Gabatà, era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei, ecco il vostro re. Allora essi gridarono, toglielo, di mezzo, toglielo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò io il vostro re? I capi sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli portando la sua croce venne al luogo detto del teschio che in ebraico si chiama Golgotha, dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e vera scritto, Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose, quel che ho scritto, ho scritto. I soldati dunque quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora la tunica era senza cusciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro, non la stracciamo, ma traiamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice, hanno spartito fra loro le mie vesti e han tirato la sorte sulla mia tunica. Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque vedendo sua madre, e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse, ho sete. Veracuivi un vaso pieno d'aceto, e i soldati dunque posta in cima a un ramo di soppo o una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era il gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe del primo, e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace. Ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura, né un osso d'esso sarà fiaccato. E anche un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù, e Nicodemo, che dapprima era venuto a Gesù di notte, venne anche lui, portando una misura di mirra ed aloe di circa cento libre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in pannilini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso, c'era un orto, e in quell' orto un sepolcro nuovo che nessuno era ancora stato posto. Qui vi dunque possero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino.